E' un'elefante molto elegante, la trompa molata, la trompa gigante, molata, sedente, 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 sedente. E' un'elefante molto elegante, senza scatti pescatti e sedente,osta è un'elefante molto elegante, dilee, riscatti e le coloque di un'elefante, riscatti e ferRONA. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.